Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo nel programma televisivo L'Aria che tira ed è ospite Mirta Merlino del Partito Democratico. E come un classico, gli chiedono del suo partito e lei parla di Salvini. È incredibile, incredibile. Non è solo Letta che parla solo di Salvini. A scendere, tutti quelli di sinistra hanno un solo pensiero al giorno, Matteo Salvini. Se Giorgia Meloni passerà a Salvini, cosa faranno? Cambieranno pensieri e penseranno tutto il giorno a Giorgia Meloni? O continueranno a pensare a Salvini? Questa è la domanda. Letta, l'anti Salvini, diventerà anti Meloni o rimarrà sempre l'anti Salvini? Non credo, vero? Sennò il PD, che era anti Berlusconi, dovrebbe continuare tutto il giorno a parlare di Berlusconi. Invece parla di Salvini perché è il leader del centrodestra. Vedremo in un futuro che cosa succederà. Insomma, siamo nel programma e in difficoltà Alessia Morani all'Aria che tira. Intanto c'è la conduttrice e c'è Augusto Minzolini, giornalista. Anche lui ospite in studio. Sembra un po', dice un po' balbetta, non risponde a interrogativi ben precisi. Una scena non proprio idilliaca che comincia con una domanda della conduttrice. Che chiede? Il PD vuole tenersi stretto Draghi perché se andasse al voto prima farebbe una fatica tremenda. Avete un problema? Chiedela Merlino. La domanda è chiara. Volete Draghi che rimane presidente del Consiglio perché se va al Quirinale si va al voto e voi perdete. Questa è la domanda chiara della Merlino. Gli italiani vogliono tenersi stretto Draghi perché è una persona straordinaria e lo sta dimostrando in questa esperienza di governo. Se oggi è possibile continuare a riaprire è perché c'è stata prudenza e buonsenso. E già cominciate a vedere che di solito chi non sa come rispondere a una domanda, no? Un po' come a scuola che vi chiedono ma quanti anni, non so, com'è andata quella cosa storica? Dice allora quella cosa storica però volevo prima dirvi che riguardo all'economia dice no io ti ho fatto un'altra domanda perché io ti sto chiedendo perché volete tenervi stretto Draghi. Ma lei continua e dice Se avessimo dato ascolto a Matteo Salvini avrebbe sbracato e ci saremmo trovati con un effetto boomerang a una velocità supersonica. Che tristezza! Ha ripetuto le parole di Letta. Letta diceva la stessa identica cosa con la stessa parola. Se avessimo dato ascolto a Salvini avremmo sbracato e ci saremmo trovati con un effetto boomerang a una velocità supersonica. Quindi capite gli chiedono perché volete tenervi stretto Draghi perché se andate alle elezioni voi perdete e finite all'opposizione. E per questo che vi volete tenere stretto Draghi? E lei risponde se avessimo dato ascolto a Salvini avremmo sbracato e adesso ci saremmo trovati. Fai come i ragazzi a scuola che quando gli fanno una domanda che non sanno ti rispondono un'altra cosa? E la Merlino a quel punto fa un'osservazione e dice Guardi io le ho chiesto una cosa su di voi. Lei parla di Salvini. Diciamoci la verità stamattina. E la Morani ancora una volta dice Se non ci sono le riforme non ci sono quei 200 miliardi del recovery. Voi avete capito che ci sono dei politici in Italia che sanno alcune frasi. se avessimo sbracato con Salvini se non ci sono le riforme ecco sanno 3-4 titoli 3-4 titoli dice mi chiedono una cosa non so rispondere prendo una di queste 4 cose che so e la dico dice ma guarda che ti ho chiesto un'altra cosa allora parlo del recoice ma di cosa mi sta ecco chi non sa come argomentare naturalmente ripete quelle 4-5 cose che conosce le riutilizza per qualsiasi domanda e allora quando continua la Morani a dire se non ci sono le riforme non ci sono quei 200 miliardi allora la conduttrice un po' così sconsolata si rivolge a Minzolini e dice provaci tu provaci tu a parlare con la Morani perché io non ci sono riuscita e Minzolini dice Salvini è stato molto chiaro voterà Draghi al Quirinale voi? e Minzolini dice bene parliamoci chiaro Salvini voterà Draghi per il Quirinale voi? come dire adesso mi devi rispondere anche in questo caso la piedina va un po' e dice la discussione sul Quirinale non si fa in tv ma è qualcosa di complesso perché non si fa in tv? se tu come politico vai in tv a parlare di politica e ti chiedono una cosa di politica e tu dici non si parla di queste cose di politica in tv e allora tu perché vai in televisione? e allora perché esistono i programmi di politica e tu ci vai? un conto se esistono i programmi di politica e tu non ci vai e da casa dici io non condivido chi va in televisione a parlare di politica perché il politico deve parlare solo in politica nel Parlamento ma se tu sei una politica e accetti un invito e ti fanno una domanda di politica e poi rispondi che sul Quirinale non si parla in televisione e poi perché del Quirinale non si parla in televisione e tu parli di Salvini? qual è la differenza? di Mattarella non vuoi parlare perché non sai esattamente il tuo partito che cosa vuole fare perché questa è la verità la Morani non sa qual è la posizione ufficiale del partito sull'elezione al Quirinale e allora dice non si fa in tv è qualcosa di complesso in realtà non è complesso è complesso quanto tutte le altre cose o addirittura anche meno complesso è molto semplice ma la discussione del Quirinale non si fa in tv e così Minzolini commenta non lo votate perché non volete andare a votare chiaro ha risposto Minzolini per la Morani perché la Morani avrebbe dovuto dire noi vogliamo noi vogliamo Draghi che rimane presidente del Consiglio perché se lui diventa capo dello Stato si va a votare noi perdiamo e andiamo all'opposizione quindi meglio stare al governo meglio stare al governo con chi non ci piace piuttosto che andare all'opposizione a criticare ma lei risponde a Minzolini che gli dice non votate perché non volete andare a votare lei risponde è più complicato di così no non Morani è proprio così non è più complicato di così è molto più semplice di così però insomma io consiglierei a tanti politici italiani se non siete molto ferrati di politica non sapete che dire ma non andate in televisione per dire agli amici guardatemi in televisione guardatemi lascia perdere non c'è andare grazie a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti